Due giorni intensi di incontri e dibattiti in Calabria per il segretario nazionale generale della CGL Susanna Camusso, una visita che si colloca in una fase delicata per la vita del paese del mezzogiorno che arriva dopo la conferenza sulla mezzogiorno svoltasi a Lecce e che anticipa la conferenza nazionale che si svolgerà a Milano a fine mese. La Camusso, dopo aver a Cosenza tagliato il nastro della sede della Camera del Lavoro, ha partecipato a Castrovillare all'iniziativa della CGL Comprensoriale del Pollino Sibariti de Tirreno sul tema lavoro e legalità. Non si può continuare a inventare delle cose ad hoc che per qualche mese garantiscono il silenzio e la ragione, per cui anche nella discussione con la regione, che speriamo che il sabato si avvii concretamente, si avvia a partire dalla nostra piattaforma, si devono dare delle risposte che sono delle risposte di prospettiva della regione. Altrimenti sarà scioglia? Le mobilitazioni le abbiamo già fatte e continueremo a farle, non mancano. La visita del segretario Camusso, ha sottolineato la CGL, è stata un'occasione importante per rilanciare i temi del mezzogiorno e fare un focus sulla Calabria dopo la manifestazione del 16 novembre di CGL Will Calabresi con 6.000 persone per chiedere un cambio di passo alle politiche della giunta regionale. La visita potrebbe dunque precedere il riavvio di un confronto sulla piano per il lavoro proposto da CGL Will della Calabria in quell'occasione. Presenti all'incontro anche gli ex immobilità inderogati rocinanti presso i comuni di tutta la Calabria. Siamo qua perché abbiamo esposto alla Camusso già stamattina su Cosenza e oggi qui su Castrovillari. La nostra problematica è verso la regione Calabria sul fatto dei titocinanti perché non abbiamo una progettazione, non abbiamo niente ad oggi e ancora con i pagamenti non siamo stati ancora saldati, non abbiamo avuto le ultime mensilità. Noi abbiamo chiesto alla Camusso di prendere la nostra problematica a livello nazionale e anche a livello regionale. Oltretutto noi abbiamo lavorato e dovremmo fare i tirocini che dovevamo guardare i dipendenti comunali lavorare per imparare. Noi abbiamo lavorato e oltretutto abbiamo fatto i lavori che non ci competeva di diritto. Abbiamo fatto oltre il lavoro in nero perché abbiamo lavorato anche in nero presso i comuni, per agevolare i comuni e per agevolare i loro. Noi chiedevamo un perfezionamento dei tirocini e basta. Noi chiediamo praticamente una collaborazione tra noi della mobilità regione e praticamente sindacati, cosa che ci è stato snobbato, ad oggi nessuna risposta abbiamo avuto. Ci hanno dato una data che è il 14 febbraio. Noi siamo pronti per fare una mobilitazione, non la ricondizione. Facciamo una mobilitazione in tutta la Calabria, bloccando le autostrade, bloccando le ferrovie e bloccando anche l'aeroporto di La Mezzaterma, che è l'aeroporto internazionale della Calabria. Quindi abbiamo questa idea, se la regione Calabria non si muove, con i sindacati.